Io sono Filomena Corvino, ho 57 anni e vengo da Roma. Circa tre anni fa è iniziata questa avventura, inizialmente scoprendo di avere una paratontite, però con l'altar del tempo la cosa è che comunque ti cascano tutti i denti e per cui su internet, tramite Facebook, ha fatto la conoscenza per caso del dottor Palmas, poi ho preso contatto con la clinica. Nel fine novembre, i primi di dicembre del 2021 è iniziata questa avventura. Quando arrivi qua non sa che cosa trovi, invece trovi una grande famiglia, delle persone gentilissime che ti stanno vicino, che ti sostengono, che ti, cioè, in un vortice. Non nascondiamo che comunque c'è stato un bel po' di dolore, ma penso che sia normale, cioè, non si capisce da solo. Vabbè, poi comunque levano i denti, tutto l'intervento, poi ti mettono i provvisori e dopo due o tre giorni ritorni a casa e devi ritornare dopo sei mesi. A secondo viaggio arrivi qua con un'aspettativa di quelle, proprio il massimo. Dici, oddio, riuscirà ad avere la mia bocca di prima? E invece sì, sì. Dopo che ho messo i definitivi, io le bacierei tutti, 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 uno per uno, perché ho detto no, sono i miei denti, sono i miei denti, la sensazione è quella di essere ritornata indietro di due anni fa ed è bellissimo, io lo consiglio veramente affidatevi tranquillamente al dottor Palmas, è un fratello, ha ragione Saverio, ha ragione mio marito, è in gamba. L'unica cosa, come dicevo anche a Corrado Palmas, è che deve forse mettere qualche clinica in più sul territorio nazionale, italiano. Grazie, grazie, grazie. E a tutti, veramente con il cuore. Grazie.